Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Angoli che come sempre iniziamo ricordando l'indirizzo mail per comunicare con la redazione del programma angolichiocciolaespansionetv.it mi raccomando scriveteci, noi aspettiamo davvero i vostri messaggi e li aspetteremo anche durante tutta l'estate perché la nostra mail non va in vacanza, quindi continuate a scriverci, poi appunto con questa settimana si chiude la stagione di Angoli, ci prendiamo anche noi una pausa, ci rivedremo a settembre e allora avremo modo anche di lavorarci durante le ferie per assecondare le vostre proposte. Vado a presentare le due ospiti di questa prima parte della puntata, siamo in compagnia di Marina Uboldi del Museo Archeologico Paolo Giovio e di Letizia Casati, collega del Museo. Buonasera a entrambe. Buonasera. Allora, domani c'è un appuntamento importante nel cortile del Museo Archeologico, alle 21.30 avete preparato una proiezione, una proiezione di un documentario che racconta un po' una parte della storia di Como, in particolare il taglio che avete dato a questa rassegna, riguarda proprio la città che si rinnova e scopre il suo passato. Sì, ogni anno in luglio facciamo questa serie dedicata a documentari oppure a cinema, film, veri, propri film del passato, legati all'antichità, a temi archeologici. Quest'anno abbiamo preso lo spunto da un evento comasco che sono gli scavi in piazza Grimoldi di fianco al Duomo e quindi abbiamo voluto approfondire il tema della città che quando si rinnova va naturalmente a intaccare il passato, a intaccare gli strati archeologici e riporta alla luce la sua storia. Ok, nella proiezione che vedremo domani il punto focale è concentrato sul quartiere della cortesella di Como. Letizia, lei ha proprio curato con particolare cura questa proiezione. Cosa si potrà scoprire? Ma io farò una presentazione. È un filmato in realtà conosciuto perché soprattutto diciamo negli ultimi decenni è tornato alla ribalta quando ci sono stati gli studi sul razionalismo. Questo filmato che fu girato nel 39 proprio sul quartiere, questo quartiere vicino al porto è stato insomma ripreso. Per cui io farò una presentazione mettendo in luce alcuni aspetti che magari non sono stati considerati in questi ultimi periodi. Perché il quartiere già dalla fine dell'Ottocento era stato oggetto di interesse da parte dei piani regolatori per una trasformazione. Era un quartiere intensamente costruito, per cui intensamente abitato. Era uno dei nuclei popolari della città, quindi ricco di attività commerciali, di attività produttive, piccolo al dettaglio. Però aveva anche piccoli edifici di pregio come l'edificio del Macello costruito nel XVIII secolo, quella che è famosa come la Casa Vietti, un palazzetto, oppure il palazzetto del Podestà. E poi con il concorso per il piano regolatore degli anni 30 è stato oggetto proprio di un progetto di trasformazione massiccio, insomma, che ha previsto l'abbattimento di buona parte di questo nucleo urbano. La commissione di questo filmato fu proprio da parte dell'amministrazione municipale perché voleva dimostrare che ci fosse la necessità di abbattere il quartiere per risanare completamente quest'area. Quindi il filmato ha più valenze, insomma. Prima di tutto, dal momento che buona parte del quartiere effettivamente è stato demolito, è una testimonianza storica. Poi è una testimonianza anche di un certo tipo di produzione documentaria, insomma, perché fu realizzato da, diciamo, tre studenti universitari, fra cui Ico Parisi, per cui noi conserviamo nell'archivio in Pinacoteca una coppia in 8 mm, perché l'originale era in 16. E poi l'altro aspetto che forse sarà messo in luce, insomma, in questa occasione, è quello dei reperti che sono derivati dal quartiere e sono entrati in museo, perché effettivamente fu distrutta anche una chiesa, la parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso, da cui provengono alcuni affreschi che poi sono stati portati in museo. Benissimo, quindi, insomma, più messaggi arrivano da questo documentario. Ma non è la sola proiezione in programma, anzi, anche sempre ancora nel mese di luglio avete già calendarizzato altre proiezioni. Sì, altri due appuntamenti, sempre al giovedì sera, quindi le due settimane successive. e andremo più sul moderno, diciamo, quindi incominciamo con un filmato antico ormai, storico, e poi vediamo invece dei documentari fatti negli ultimi anni che vogliono spiegare un po' come si può lavorare, valorizzare i reperti archeologici, i resti archeologici che ci sono nelle città e a volte non si vedono. È difficile magari sapere dove sono, accedere, poterli visitare. E quindi i due esempi saranno uno dedicato a Milano e l'altro a Brescia. Benissimo, quindi, insomma, proprio l'occasione anche per far conoscere un po' di più le città che siamo abituati a vedere, avere sempre sotto gli occhi, ma che molto spesso rascondono dei tesori nascosti. A proposito di tesori nascosti, già che siamo qua, raccontiamo anche un po' l'attività del museo, perché ogni tanto, anche sul sito, e approfitto per ricordarvelo, cultura.comune.com.it slash museo archeologico Paolo Giovio, si trovano molto spesso attività dedicate, devo dire, anche ai ragazzi, ai ragazzi delle scuole, ai bambini, insomma. Siete, avete creato degli appuntamenti molto coinvolgenti. Facciamo quello che possiamo, ovviamente. Il museo è molto ricco, il museo ha delle sezioni, la sezione di archeologia, che si può dividere in una parte preistorica e protostorica, e poi in una parte romana, e poi una sezione alto medievale e medievale, e poi la Pinacoteca e anche il museo storico, quindi il risorgimento e le guerre. Quindi, e poi il Tempio Voltiano, per cui tutta una serie di strutture, di edifici, di collezioni, che si cerca di valorizzare anche con attività divulgative. Quindi noi facciamo ricerca, studiamo, cerchiamo di preparare testi, mostre, allestimenti, che siano scientificamente validi e importanti, e poi però cerchiamo anche di divulgare e di aprire il più possibile al pubblico. Certo. E avete in programma, prossimamente, qual è il prossimo appuntamento dedicato appunto a queste aperture, diciamo, un po' guidate? Ma adesso ordinarie, ci sono sicuramente le aperture delle prime domeniche del mese, che sono ingresso gratuite. Gratuito e in genere c'è sempre qualche iniziativa, la visita guidata, e hanno notevole successo, insomma, anche perché la possibilità di entrare liberamente riscuote il favore, insomma, del pubblico. È vero, tutti si riscoprono anche appassionati d'arte in queste giornate, devo dire che è molto importante averle, no? C'è sempre una grande affluenza. Grazie mille entrambe per essere state con noi questa sera. Ricordo, la prima proiezione è domani 30 giugno alle 21.30 presso il cortile del Museo archeologico. Le altre, abbiamo le date? Sono il 7 luglio e il 14 luglio. Benissimo, sempre alle 21.30. Grazie ancora. Adesso ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco con la seconda parte di Angoli. Mi raccomando, restate con noi. Grazie mille.